www.maurizopoli.it, un interessante bando appena entrato in vigore, anzi entrato in vigore ieri 29 di aprile della regione Lombardia, si chiama bando FaiCredito, interessante per le piccole e medie imprese e per i professionisti lombardi, quindi Lombardia, per l'abbattimento sono contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse che applicano ai finanziamenti bancari che sono adesso in istruttoria per i vari decreti di PCM che sono stati decretati adesso con operazioni di liquidità. Oltre che l'abbattimento del tasso c'è anche un contributo fino al 50% per l'abbattimento eventualmente se viene utilizzato un cofidi, un consorzio di garanzia fidi a garanzia delle operazioni di finanziamento. Riporto qui poi il sito dove potete vedere nel dettaglio sia l'importo dell'abbattimento tassi sia il contributo per l'abbattimento delle spese dei cofidi. Ritengo che sia una tessera del mosaico per una piccola medie imprese, per un professionista, per attenuare il costo di questi prestiti che vengono adesso chiesti con garanzia statale al 90% e un 10% di garanzia di contributi fidi. Quindi una mitigazione dei costi che questa tessera del puzzle finanziario che va poi calata in ogni realtà imprenditoriale per attenuare questo impatto di costi che l'azienda poi deve sopportare. Quindi abbattimento dei tassi, abbattimento del costo del consorzio di garanzia dei fidi. Qui vi riporto poi il link al sito. Per chi volesse maggiori contatti www.mauriziopoli.it, un mio numero di telefono è 349 571 4319, mia mail è m.poli-solution.it, contatto via Skype, via Whatsapp, contatti video per approfondire e cercare soluzioni per le piccole e medie imprese in questo particolare momento che stiamo vivendo. Alla prossima!